Sequestrati denaro per oltre 100.000 euro e otto orologi Rolex di contrabbando di elevato valore. Operazione dei funzionari ADM dell'ufficio delle Dogane del Verbano Cusiossola in stretta sinergia con i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Iselle. Hanno intercettato presso il valico stradale del Sempione una viaggiatrice extracomunitaria che aveva accuratamente occultato nel bagagliaio 101.000 euro suddivisi in mazzette di vari tagli di banconote insieme a otto orologi preziosi per un valore totale di oltre 160.000 franchi svizzeri. Commentano dall'ufficio Dogane questa importante attività di contrasto al traffico illecito di valuta e al contrabbando di orologi preziosi dimostra ancora una volta l'esigenza di tenere sempre alta la guardia nella lotta al contrasto dei fenomeni criminosi trasfrontalieri a tutela degli interessi dell'erario. Nell'occasione anche un bilancio dell'attività e degli importanti risultati raggiunti nel contrasto alle frodi e alle violazioni in materia valutaria presso i valichi di confine e presso la stazione internazionale di Domodossola. Lo scorso anno scoperte somme di denaro pari a 700.000 euro in varie valute detenute da 42 viaggiatori e variamente occultate.